Io non volevo più giocare alla basket Quindi l'unico modo per convincere tutti era E spellermi per sempre Ok, ok E così ho fatto Ti ho aggiunto, è una storia vera questa Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement Bentornati, oppure magari siete sempre stati qui Perché diciamo una puntata tira l'altra Come le ciliegie, come tante altre cose Ciao, io sono Gianluca Gazzoli E se non l'avete ancora fatto e vi va Iscrivetevi a questo canale Se ci state guardando invece su Spotify Grandi, continuate a farlo Lì si può vedere anche il video Attivate anche in quel caso la campanella Così non vi perdete niente Nessun episodio, nessun incontro Nessuno amico che passa da qui Anche in questo caso, anche oggi Sono davvero molto contento Perché ci sono tante cose di cui potremmo parlare Con la persona che è seduta qui a questo tavolo Inutile che faccio troppa suspense Perché nel titolo, come sempre, c'è già scritto Chi è l'ospite Però, attenzione, fate casino in questo momento Come se foste allo stadio Per Martin Castro Giovanni Ciao ragazzi Ciao Martin, grazie mille per essere passato Come stai? Bene, bene, sono molto felice Molto bello Ho sempre visto le foto Sì Siamo sempre visti da Bebe Però sono molto felice che sono qua finalmente A fare questa bella chiacchierata Ma infatti è vero Noi ci siamo sempre visti appunto nei contesti Insieme a Bebe Che è un'amica comune Io in realtà a Bebe Tutte le volte che capita di parlare di te O meglio Sono quasi io che gli... No no Lei ne parla ovviamente benissimo Ma sono io che cerco di imbucarmi alle tue grigliate Perché io vado matto quando posti le foto Io sono un grande fan del barbecue Della situazione che si crea attorno al barbecue È quello Poi per carità uno può grigliare quello che vuole Che sia vegano Che sia qualsiasi cosa Però è quel contesto lì Che è bellissimo E quando vedo che viene Bebe da te O comunque che organizzi quelle robe Dico che figata Poi di solito Ultimamente vedo che grigli Con la maglia di Gianni Santetto Cumpo Ok De tutto Con quello che mi trovo a griglia Con tutto bello sì Bello E come dici tu Io Il bello del barbecue Sicuramente è la carne Ma è quello È quello che fa È stare attorno Assieme a quella griglia Perché poi in Argentina Il barbecue è quasi un rito È come la domenica Stare a casa Tutto il giorno Davanti al fuoco E il bello è condividere Con la tua famiglia Con i tuoi amici Penso che È quasi un terzo tempo Bravo Esatto È esattamente quello Io credo che poi Lo spirito Di quella roba Di quella roba Che hai fatto per tanti anni Che continua a fare In modi diversi Si porti avanti Infatti sono contento Che tu sia qui Perché è un tema Che nelle tante puntate Ormai di Passata al Basement Anche a tema sportivo Non lo abbiamo ancora affrontato Cioè Il rugby Però il rugby Vuol dire tantissime cose Ma soprattutto Tu hai fatto anche Tante altre tantissime cose Ma insomma Sei anche uomo di spettacolo Questa è un'altra cosa Incredibile Ci sto provando Ci sto provando Però sì Il rugby È tantissimo Non è solo uno sport A me mi ha insegnato a vivere È ovvio che Come dici tu C'ha tanti valori Il rugby Però il bello Di questo sport È che te lo porti Te lo porti per sempre Non è che sto parlando Per parlare Perché ho giocato al rugby Ma veramente Io ho compagni di squadra Che forse non vedo Da vent'anni E quando li vedo Quell'abbraccio Che tu dai È lo stesso Di quando giocavi Io sono molto convinto Che fare uno sport Unisce Però quando tu combatti In un campo Quando tu sei spalla Con la spalla Che ti prende a botte Con un altro Si crea un legame Che è diverso A tutti gli altri sport Non è che me lo invento io Ma è così Perché è come andare in guerra Quando tu vai a combattere Con altre persone Crea un legame Che è diverso a tutti Lì perché realmente Ti stai giocando Anche a livello fisico Qualcosa Sì perché poi Sai le dai Le ricevi Però sei Se hai abbracciato Il tuo compagno E vai a fare una carica Capito Quello dà Un qualcosa Che penso che nessun altro Sport lo dà Sì ovviamente Lo sport dei combattimenti Però Però non sei Esatto Non sei in gruppo Non sei Non sei in squadra Quando si parla di Di rugby Tu per quanti anni hai giocato Praticamente Io ho iniziato Iniziato grande Io ho iniziato 17-18 anni Ok E dopo a vent'anni Ero già qui in Italia Ok Quindi tu hai iniziato Perché eri ancora In Argentina Io giocavo a basket È vero Non ero bravissimo A giocare a basket Giocavo pivote A questa altezza Tiravo solo gomitate E a 17 anni Ho deciso di smettere Mia mamma non voleva Che io giocassi a rugby E allora sono andato Spinto l'arbitro Da basket Ma non sono spesso a vita Ma va Te lo giuro Perché io non volevo più Giocare a basket E mia mamma voleva Che io giocassi a basket Allora dovevo fare qualcosa Per non giocare più Allora sono andato Spinto l'arbitro Sì sì Ho spesso a giocare Allora a basket Cioè durante Cioè era successo qualcosa In campo Una finale No era una finale Io avevo già deciso Io non è che Ce l'avevo con l'arbitro Io non volevo più Giocare alla basket Quindi l'unico modo Per convincere tutti Era Spellermi per sempre Ok Ok E così ho fatto Ti giuro È una storia vera questa Non lo scherzo Salutiamo l'arbitro Che lo stanno ancora cercando Da quando l'ha spinto Martini Questo Giovanni No è uno spintone Però sì Io volevo solo giocare a rugby Giuro Ma tu avevi In quel periodo Facevi la combo Cioè giocavi sia a basket Che a rugby Avevi iniziato No Io ero andato A qualche allenamento Però sai Mia mamma non voleva Che io giochassi a rugby Non gli piaceva Diceva che Era un po' violento E che mi avrei fatto male Però Io volevo giocare A quello sport Io me l'ho innamorato Quando andavo a scuola Vedevo tutti questi Questi gruppi di ragazzi Che stavano sempre assieme Che andavano Dove andavano Stavano assieme Io me l'ho innamorato Di quel concetto Di quel gruppo Di vita Perché la fine È un modo di vivere Io mi sono innamorato E a vent'anni Stavo qui E dopo ho fatto La carriera Che ho fatto E quindi Quando hai finito Di giocare a basket Diciamo Sei andato Sei andato poi subito A iscriverti Sì sì Sono andato A 17 anni Ho cominciato a giocare Io ho fatto 17 Poi ero un po' Sono sempre stato Un po' pazzo Dopo ho fatto Sei mesi Di bodybuilding Ho vinto E dopo ho ricominciato A giocare A rugby E a 19 Ho perso L'aereo Sono venuto qua A vent'anni E ero già qua Infatti tu sei Di origine Argentina Come abbiamo già detto Come si sente Come è rimasta Insomma Ed è anche bella Fa parte della sua caratteristica Quindi immagino Adesso il momento In cui stiamo girando Questa puntata E stiamo facendo Questa chiacchierata Da pochi giorni L'Argentina Ha vinto Il campionato del mondo Mamma mia Che sofferenza Poi sai Io penso Che tutto il mondo Oh bellissima partita Bellissima partita Però Nessuno tifava Nel senso che Tutti la guardavano da fuori Però essere tifoso Quella partita È stato veramente Ho perso Penso 5 6 anni Sì perché Noi italiani Diciamo comunque La gente Tutti gli altri paesi Che la stava guardando Sono divertiti Bellissimo Oh si ha vinto Ho segnato un altro Dai vediamo se recuperano Ancora gli altri Se tu hai dentro lì Il cuore È un casino Stai malissimo Veramente male male Poi il 3 a 3 È stata una cosa Però bello così Ma il rapporto col calcio Qual è nel tuo caso? Beh io In senso Io non sono Molto fanatico In senso Ho lasciato tutto Quando giocavo Guardo Finché guardo Guardo una finale Ma non sono uno Che impazzisce Per andare a guardare Quando ci sono Le belle partite Le guardo Ma non sono Un calciatore Però sai che questa cosa Del basso In particolare Un altro tuo Collega argentino Diciamo in realtà Di un altro sport Che è cambiasso Anche lui mi ha raccontato Che ha iniziato Giocando a basket In realtà Cioè lui ha iniziato A giocare a calcio Solo perché a un certo punto Se non ricordo male Comunque non si riusciva A fare la squadra E allora ha detto Avevo a giocare a calcio Poi gli è andata Decisamente bene Però in Si gioca molto In Argentina si gioca tantissimo Tantissimi amici Giocatori argentini Beh tu pensa che In Argentina C'è quello che si chiama Il club Quando io smettevo La scuola Al pomeriggio Mi portavano Alle tre del pomeriggio Al mio club Che era il club studiante E ti venivano a prendere Alle otto di sera Tutti i giorni Tu lì facevi tutti Tutti gli sport Non è che facevi solo rugby Tu andavi alle tre Facevi Ho fatto basket Ho fatto tutti Li provavi tutti Perché stavi là E stavi nel tuo club E allora Gli argentini Meno male Hanno provato tutti gli sport Perché Qua purtroppo Alla scuola Non fai poco sport Nel club O vai a fare rugby O vai a fare basket O vai a fare calcio Non vai a un club Non c'è questo Senso di appartenenza Che si chiama Perché poi Tu vai lì Dopo Decidi Che sport fare Però All'inizio L'argentino Fanno tutti gli sport Io mi ricordo Di aver fatto tutti Pure il baseball L'ho fatto tutto Perché tu vai lì E fai tutti gli sport Che fa il tuo club Ed è molto bello E poi ti porta anche A seguirli tutti A non fissarti Solo a uno Invece Com'è andata Quando sei arrivato in Italia Quindi eri già Abbastanza grande Arrivi qui Quali sono state Le tue sensazioni Ti ricordi Beh io Ci ho avuto Sensazione bellissima A me mi hanno Trattato come un figlio Quando sono arrivato in Italia Io sono arrivato a Calpisano Che è un paesino Provincia di Brescia Sono arrivato E mi hanno trattato Subito bene C'avevo vent'anni Immagina che A vent'anni Non ero come adesso Ne ho fatte Di più e di meno Ma mi sono sempre divertito Ho fatto cinque anni lì Dopo sono andato In Inghilterra Dopo ho passato Altri sette anni Dopo in Francia Però L'Italia è stato il posto Dove veramente Mi sono sentito a casa Intanto che Ho pure giocato Per l'Italia dopo Infatti come avviene Quella cosa lì Perché tu ovviamente Poi diventi In quel caso italiano No? Sei giochi per la nazionale Italiana metti la maglia azzurra Sei diventato un riferimento Credo che tu sia Il giocatore di rugby Più popolare In Italia Prima per i risultati sportivi Per quello che hai rappresentato E poi insomma Io credo che poi Di ogni sport ci siano Dei giocatori che diventano Quasi ambassador Dello sport stesso In modo non ufficiale Tu lo sei Quindi vieni riconosciuto Tantissimo per questo E soprattutto per Per l'Italia Cosa ha significato per te? Beh io ho giocato 119 partite per l'Italia Sicuramente La decisione La prima decisione Poi è stata la decisione Più importante della mia vita Penso no? A dover scegliere Di giocare o per l'Argentina O per l'Italia Però io dico sempre Questa cosa qua Io non Lo rifarei mille volte Perché se oggi sto qua A parlare con te O se tutto quello che ho fatto È perché io ho giocato Per l'Italia È perché Ho fatto una carriera Grazie all'Italia Nel senso Quando io sono andato a giocare In Inghilterra Mi hanno chiamato Perché giocavo per l'Italia Non per altro Penso che è stato molto difficile Perché sai Da argentino Dover poi Le partite che erano Contra l'Argentina Sono sempre state un po' Difficili Difficili certo Però Io ho preso una decisione Che per me In quel momento Era la migliore E penso che Non ho sbagliato niente Perché se oggi sto qua È per quello Però Non è stata facile Io ho preso una settimana Mi ricordo che ho chiesto una settimana Tanto l'Italia Come l'Argentina Per pensarci Ho parlato con mio padre Con i miei amici E ho deciso di scegliere l'Italia E lo rifarei Mille volte Perché non sarei qua oggi E ti è capitato Che poi in quel periodo Magari i social Non c'erano come oggi Eccetera eccetera Però Ti è capitato Che qualche argentino Poi venisse da te Tifoso E dicesse Cazzo Martin Le prime partite Ci minavamo e basta Sì è vero Poi Io avevo vent'anni Quando ho cominciato a giocare per l'Italia Le prime partite Con l'Argentina Erano quelli diciamo Che ci avevano già 30 Qualcosa anni Erano solo botte Mi ricordo che Soprattutto all'inizio Dopo Ti conosci con le persone Perché vai a giocare all'estero E convivi con loro E loro capiscono Che tu hai fatto una scelta Una scelta di vita Ed è così Però Le prime volte Erano botte vere E c'era Ci minavamo molto di più Con l'Argentina Che con altri Ma Ma è giusto così Sai Erano altri sport Erano come dici tu Non c'erano tanti Tanti social E c'era C'era più la presenza in campo Penso che Tanti di noi Abbiamo avuto anche Pochi social Sono cominciato dopo Io penso che Tantissime cose Che noi facevamo Quando giocavamo Oggi non ne potresti fare I terzi tempi Andare in discoteca Tante cose che A noi venivano permesse Adesso i ragazzi Giustamente Per quello dico Che non puoi mai comparare I giocatori Di un'altra Di epica Ci sono cose troppo Tipo adesso Abbiamo parlato del calcio In questo momento Dopo i mondiali In Argentina C'è sempre questo confronto Tra Messi e Maradona È finito penso Cioè È finito penso Nel senso che Secondo te adesso Messi ha dimostrato Ma non doveva Secondo me Per come la penso io Non doveva dimostrare niente Però purtroppo Lo sport Ti etichetta Se lui non vinceva Questa cosa qua Non sarebbe mai stato Il più grande Adesso può essere Però purtroppo Questo è lo sport Lo sport è bello Ma allo stesso momento È molto È stronzo Ti dà tanto Ma ti toglie tanto Prima di iniziare Abbiamo Facendo due chiacchiere Prima stavamo parlando Di videogiochi E del fatto Che tu non ami Molto perdere E quindi Questa cosa qui Te la porti avanti Per tutta la vita Non solo Quando sei in campo Sì Penso che è una malattia Io penso che Quello sia una malattia In senso Se sei sportivo Vuoi vincere Non c'è altro È vero che Quello che ti dicevo prima Io In campo Prendevo attestate Le persone Se le cose non andavano bene Se giochiamo la play Non posso Però sto migliorando Sto migliorando Pensa che non vado Neanche a giocare Che ne so A padel A calcio a 5 No Litigo con tutti Ah perché poi ti scatta La competizione La competizione E beh questa è una cosa Che però tipo Anch'io Adesso ultimamente Smetto di andare Un po' Sto smettendo di andare Un po' al campetto A giocare Perché magari Le persone adesso Mi conoscono Mi riconoscono E io so che Quando gioco A un certo punto Mi trasformo E non vorrei mai Che questa Tornava a calcio Oh ma cazzo Ma questo è No perché fai più danni Fai più danni Di quello che cerchi di fare È un problema Però Dobbiamo lavorare Quando giochi Vuoi vincere Se sei competitivo Prima hai parlato Di botte Di darsene in campo Ti posso chiedere Quante cose Ti sei rotto Giocando a rugby O come è andata Nel tuo caso Dal punto di vista fisico La tua carriera Beh Infortuni ne ho avuto Grazie a Dio Non sono stato uno Che ha avuto Infortuni molto gravi Ho sofferto molto Da pubalgia Io E questo un po' Mi ha portato dopo A smettere Non sono stato Operato due volte Però Più che altro Sì le spalle Però Non ho avuto Infortuni molto gravi Più l'oppura del corpo Ma quello che dici È comune in tanti altri sport La pubalgia Nel calcio Ad esempio C'è tantissimo Anche in altri Però È uno sport In cui ti fai più male Rispetto ad altri sport Adesso il tuo caso Magari è questo No Ma poi sai cosa c'è Ti porti indietro Dei traumi Tutti i traumi Nel senso le spalle Le ginocchia La mattina Quando ti alzi Quando ti vai a mettere i calzini Non è che è cambiato Nel senso È peggiora Certo Quando sei Nel senso Quando tu ti aleni Giochi Bah Però quando ti devi alzare La mattina Smetti di correre Smetti di fare allenamento E senti tutti i dolori Per quello che bisogna cercare Non smettere mai Di fare movimento Infatti Mi sono fatto troppo tardi Ma c'è una cosa oggi Che magari Mentre sei in giro Ti fa male Capisce Ti rendi conto Che è un dolore Che Per esempio Io ho le spalle Le spalle mia Mi devono mettere già Una protesi Ma non posso mettere Una protesi a 40 anni Però Sono cose che comunque Sai che sono così Cerchi di lavorare Vai al fisioterapista Purtroppo Però oggettivamente No Dicevi anche tua mamma Era preoccupata Non voleva che tu giocassi a rugby Questa è una cosa Che succede ancora oggi Nel senso Che ne ho sentite tante Io stesso ricordo Quando volevo provare I vari sport C'era sempre Questo pensiero Che consiglio dai In questo caso A magari I ragazzi Che vogliono comunque giocare Ma Dall'altra parte Magari ci sono i genitori Oppure i genitori stessi Adesso tu che Insomma Sei Sei dall'altra parte Sei grande Ma io penso che Se le danno E se ricevono Questo è fondamentale Perché non è che se le prendono E basta Però Penso che Tutte le cose Vanno graduali Non è che un ragazzino Che viene a 8 anni Farà subito contatto Penso che Lo sport ti porta piano piano A mettere il tuo posto In condizione Di poter fare contatto Infatti il contatto Le prime mischie Cominciano a 14-15 anni Perché non puoi fare Queste cose qua Tu avvitui il tuo corpo A prendere botte Non vedo C'è molto di più Secondo me A quello che tu guadagni Giocando a rugby A livello di amici Di quello che ti dà Dei valori Di tutto Che per le botte Poi le botte Penso che formano Ti aiutano Comunque a diventare A diventare grande A diventare più forte Perché comunque La vita è fatta Nel senso Caderemo Celseremo Mille volte Questo un po' il rugby Ti insegna già da piccolo Penso Su questo mi fanno Molto ridere A volte i paragoni Con i vari sport Ci sono dei meme Che girano Quando c'è magari Un giocatore di calcio Che viene toccato Appena appena E cade Fa una sceneggiata incredibile Poi subito dopo Magari mettono un video Di voi Vi date delle mazzate Incredibili Questo penso che Purtroppo Te lo insegnano Non è che Ti insegnano da piccolo A simulare E a noi ci insegnano A non simulare Penso che Quello non è colpa I giocatori È colpa di chi insegna Lo sport Perché poi Se tu insegni un bambino Che devi simulare Per poter rubare L'arbitro Quello farà tutta la vita E purtroppo È chi insegna Lo sport Che sbaglia Secondo me Perché i valori Vengono trasmessi Dal tuo allenatore Sia quello che sia Lo sport E penso che Questo è un problema De chi insegna Non dello sport In generale Certo Perché è sempre a monte Il problema Insegna un bambino A cercare A cercare Di rubare Piuttosto che De vincere Guadagnandotelo te Cercare Quella furbizia Che insegniamo Tutto questo Che sì La furbizia Va benissimo Ti serve una volta Ma se dopo Tu non sei allenato Quella furbizia Non serve niente Perché io non ti prenderò Perché non sono veloce Abbastanza Ti posso prendere una volta La furbizia serve Ma devi essere allenato E devi essere Nel posto giusto Se no come fai Certo Il rugby è forse Lo sport Che in modo maggiore Ha questa incontrapposizione Tra la brutalità In campo E i valori Di cui hai parlato Anche tu Fino adesso Cioè Come si spiega Questa cosa Perché il rugby Che invece Dovrebbe essere Quello più Rude Pesante Più stronzo Anche in realtà È quello che ha più rispetto Di determinati valori Rispetto ad altre cose È perché È meno viziato Di altri sport Dove magari Girano più soldi Dove magari C'è un interesse Però questo varrebbe Solo per l'Italia Magari rispetto ad altre nazioni E quindi rimane più attaccato A certe cose O è proprio Il fatto Come dicevi tu Di essere in campo A lottare Che ti porta A dare più importanza A certe cose Io penso che sia Un mix di tutto Nel senso che I valori Sono molto importanti Ma i valori Sono quelli che devono Diciamo Mobilizzare Una squadra Mobilizzare La persona Allora se io ti do i valori E tu li capisci E li sai rispettare Tu comunque Quei valori Te li porterai Io Quello che fa il rugby Secondo me È umanità Perché quando tu Riesci a fare Uno sport di contatto Ma rimanere dentro Le regole Quello è umanità Quando tu Dopo che ti sei ammazzato A botte con uno E ti siedi a tavola Per il terzo tempo Tu pensa a questo No Tu hai perso A casa tua La finale E tu comunque A quella squadra Che ha vinto Tu ti devi sedere A tavola con loro Ti devi Scusate Ti devi mangiare La merda Perché è così Li devi dare a mangiare Lo devi onorare Perché lui è stato meglio di te E quello ti aiuta a crescere E quello ti aiuta A capire Che non è colpa Di quell'altro Che tu hai perso La partita E che sono i valori Che guidano le persone A me Il mio sport Mi ha insegnato questo Perché poi È vero Gli All Black Saranno quasi come Il Brasile Per dirti di famosi Non è che quelli Non hanno soldi O non guadagnano Però Vivono dei valori E gestiscono i valori I valori sono La benzina Di qualsiasi squadra Penso che Rispettare quei valori Tanto in campo Come fuori campo Dirigenti Non dirigenti Fa sì che I valori guidano le persone Penso che quello Che fa il nostro sport È questo Dopo è ovvio Che come tutte le cose Dove cominciano gli interessi Dove ci sono i soldi Il rugby sbaglierà Qualcosina sicuramente Però Su questo Penso che valgono Molto più i valori A volte Che i soldi E questo si vede No si vede Si vede in un sacco di casi Ancora Ancora per adesso L'abbiamo citato diverse volte Il terzo tempo Ora per chi ci sta guardando Magari non sa Non conosce bene il rugby Il terzo tempo Non è realmente Un terzo tempo Nel senso che La partita che continua Ma è qualcosa che succede Quando in realtà Il fischio finale Avviene per la partita Verra e propria in campo Che cos'è il terzo tempo? Tu come lo definisci? Beh Il terzo tempo è Vediamolo con parole Belle A me il terzo tempo Mi ha insegnato Che la persona Con la quale Io condiviso Anche se c'avevo Un'altra maglia Comunque È sempre Un essere umano E che giochi O che tifio Un'altra squadra Non cambia niente E tu Hai avuto l'onore Di giocare con me In campo E io devo fare lo stesso A tavola con te Perché alla fine È dare da mangiare Alla squadra Che dopo torna a casa Perché prima di prendere Il pullman Tu cosa fai? Gli dai da mangiare Ti siedi con loro E io quello che ho imparato È che A me il mio sport Mi ha insegnato Che tu non devi odiare Il tuo avversario Perché se lui è meglio di te Vuol dire che qualcosa Di meglio la fa Allora se io mi siedo A tavola con te Io ti guardo Io ti analizzo Io vedo perché Tu sei meglio di me Io imparo molto di più A volte penso che perdere Insegna molto più di vincere Perché saper perdere Saper potersi sedere a tavola Con chi ha vinto Perché è stato meglio di te E capire perché Beh quello è il terzo tempo Secondo me È fighissimo Il terzo tempo Avviene sempre Tra le due squadre Ovviamente Non esiste il terzo tempo Solo con i tuoi C'è pure il quarto tempo Noi facciamo pure il quarto Quando andavamo in discoteca Però Qual è stato il tuo Più bel terzo tempo O è il più difficile Se ti ricordi Beh è difficile tanti Perché non ne avevamo Eh no esatto Però Penso che Il più bello È stata La prima vittoria Contra la Francia Vedere la faccia Di francesi È stata bellissima Perché poi Quella volta lì Veramente avevano messo Vacanze Vacanze a Roma Sai come sono i francesi Allora è bellissimo Vederli perdere E quella volta lì È stato È stato È stato incredibile È stato molto bello Perché Nessuno si aspettava Noi non avevamo mai vinto Una partita così importante Adesso I ragazzi hanno vinto Pure contro l'Australia Sono felice Che piano piano Il rugby sta crescendo E ci vuole del tempo Purtroppo Perché poi Siamo uno sport giovane Però Però sì Io Io sono malato Del mio sport Mi piace un sacco Non lo gioco più Questo è il problema Sai Arriva un momento Che Il rugby non è come Il calcio Che tu vai Giochi a calcetto Con i tuoi amici Giochi a tennis Non lo puoi fare Capito E finisce là Però è molto bello Mi ha insegnato tantissimo Beh Si sente Si vede Insomma È un qualcosa Che riesce a portare Anche a tutte le esperienze Che stai facendo adesso Anche in televisione Sì Sicuramente In senso Ma a me il rugby Mi ha insegnato una cosa Umiltà E voglia di lavorare Così si arriva dappertutto In senso Se tu sei umile Sai stare al tuo posto E lavori duro Tutto arriva E quando è che è iniziata La tua avventura Invece in televisione Quindi in un altro mezzo Completamente Iniziato Io ho smesso di giocare Io volevo Volevo andare in giro Un anno e mezzo Due In giro con il camper Avevo preso un camper E ho cominciato a girare Con i miei cani Ero arrivato fino a Portogallo Quasi all'Espagna Non ero ancora Ancora arrivato a Portogallo E sono quelle cose della vita Che Che mi avevano chiamato Per fare il ballando Ok E come io Volevo fare questa cosa qua Se io Come dici tu Tu fai uno sport Che non è il calcio Allora Ho deciso di fare questa esperienza Perché volevo fare così Se io me ne andavo Due anni a fare in giro In camper Forse questo non succedeva E come ho fatto Ho fatto il ballando Subito dopo Mi ha chiamato Maria Con Alessio Abbiamo fatto Abbiamo fatto un programma Prima con Alessio Che si chiamava Il più forte Mi sa per D-Max E dopo ci hanno chiamato Per fare questa esperienza E niente Siamo rimasti lì Che poi è una figata Alla fine Quel programma lì E veramente Sei fortunato Perché a parte Se vuoi fare quello Nella vita C'è i mostri sacri Della tv Prima di tutto Perché veramente Sono lì E impari Guardandoli Se vuoi fare questo Il lavoro Guardando Impari tantissimo Con gli occhi rubi Tantissimo E io per me È imparare tutti i giorni Stare lì È bello Beh davvero Sei veramente Con i più grandi In assoluto Questa è una cosa Pazzesca E appunto Stai lavorando adesso Con Maria De Filippi Che è la più grande In questo momento Insomma sta facendo Da anni cose Pazzesche Come è stato Il tuo primo incontro Con lei Te lo ricordi? Beh Maria È come dici tu È la persona importante Ovvio io sono uno Molto timido Anche se sembro Tutto grosso Faccio piccolino così Ogni volta che la vedo Però Però sì È una persona Che comunque a me Mi ha dato Mi ha dato un'opportunità Molto grande Sai io Non avevo mai fatto Quello che ho fatto In senso Io se ci pensi Sono un po' un pazzo Perché Adesso Io lo dico adesso Ma Io non è che sono Un grande lettore E meno in italiano Io ho fatto un programma Una diretta Per non so quanti milioni di persone Senza aver mai letto Un gobo in vita mia Però così si fa Le cose vanno fatte così Quando uno Le senti Le vuole fare Le fa Le fa col cuore E ci crede Siccome è molto brava In questo Anche nel riconoscere Nelle persone Nel puntare sulle persone Lei in te deve aver visto qualcosa Sì Io me lo auguro tantissimo Penso di sì Perché se sto ancora là E perché Sicuramente Le cose vanno Poi è un programma Veramente che Non è lavorare Tutti diverti Andando lì Perché veramente Vedi Degli artisti O se non sono artisti Sono dei pazzi Che ti fanno morire da ridere Quelli che stanno con Jerry E comunque Vedi Stai lì tre ore Ma stai tre ore A guardare cose belle Non è che Ti annoie Non è che stai lì A sentire uno È bello È molto bello Poi abbiamo un altro amico In comune Che è Rudy Rudy Zerbi Con cui lavori Anche con lui Deve essere divertente E poi Rudy Quello che lo prendiamo Tutti Lo prendiamo sempre in giro Rudy Perché sta sempre Bello Però è lui Però vedi Anche Rudy Poi è passato Da un ruolo Dove era quello cattivo Quando in realtà Poglio è una persona Simpaticissima Una bellissima persona E adesso infatti Come dice anche tu Io vedo che Scherzate molto Sul fisico Sulle cose Eccetera Quindi Perché lui è l'antisport Lui è teo Sì A padel A padel Almeno si spaccia Perché poi Quest'estate Coincidenza Aveva sempre male Da qualcosa Non riusciva a giocare Ma io non lo so Non penso che sia molto sportivo Però lo vorrei vedere Giocare a padel Ok un giorno Lo faremo A tennis Le foto le ho viste Le foto Le foto le ho viste I video un po' meno E tu con i social Che rapporto hai? Molto strano Sei molto spontaneo Nell'utilizzo Cioè c'è una foto bella La metti Cioè Non sei molto costruito Come non lo sei nella vita Almeno questo te lo dico Vedendo da fuori Sì sì No io Con i social Ho sempre avuto Un rapporto un po' brutto Perché poi Sai quando tu fai uno sport E sei una persona di cuore Come sono io Tante volte Vedere la cattiveria Gratis Della gente Che si permette Di dire cose Senza sapere Quello che un giocatore Passa una settimana Perché poi alla fine Le persone parlano Perché è gratis Perché se tu mettessi Una tassa Ai commenti La gente non lo farebbe mai più Perché è facile E sono leone da tastiera Però E questo rapporto a me Mi ha creato molto Distacco Non li credo molto i social Perché Tutti fanno vedere Quello che vogliono E Mi serve Perché mi serve Per lavorare Ma cerco sempre Di farlo un po' A modo mio Come ho sempre fatto tutto Perché C'è troppa cattiveria Lì dietro Qualcuno ha dimostrato Cattiveria anche Nei tuoi confronti No non penso che siano così Scemi da poterlo fare Però Quando giocavo Sai certi commenti A me mi fanno male Perché io Nel bene o nel male Mi sono rotto tutto Per le maglie che mettevo E sentire Una cazzata Da uno Che sta seduto A bere la birra Sul livano di casa Mi dà molta rabbia Mi ha dato sempre Molta rabbia Infatti in un momento Mi sono tolto Perché rispondevo Perché io rispondevo E non si può fare Certo Però dopo con il tempo Uno cresce Le cose cambiano Però è un po' Un rapporto Un po' Un po' Così così Beh Comunque Tutte le cose Che hai raccontato Fino adesso Mi tornano Insomma con anche Le occasioni In cui poi ti ho visto Quando hai parlato di cuore Io ti ho beccato sempre Appunto Nelle Nelle situazioni Insieme a Bebe C'è delle cose belle Mi ha sempre colpito Quanto tu Ti sia dato Per i progetti Magari legati a Bebe Poi so che siete Molto molto amici Quindi poi la cosa Va anche oltre E poi insomma Anche adesso Tu ti stai dando Per un progetto tuo Cioè tu Adesso hai raccontato Di valori Di un modo di vivere E lo stai cercando Effettivamente Di tramandare Con la tua academy Sì Io Per esempio Non farò mai Allenatore Come ti ho detto Io Penso che il giocatore È bello Finché sei giocatore Dopo fare l'allenatore Almeno il mio punto di vista È brutto Perché Io voglio essere Giocatore Non voglio essere L'allenatore Però Credo che Comunque Io devo dare indietro Al rugby Qualcosa E glielo voglio dare Ai ragazzini Penso che Tu Ho un ragazzino De 7, 8, 9, 10 Fino a 15, 17 anni Tu le puoi insegnare Certi valori Io ti posso insegnare A non arrivare in ritardo O rispettare i tuoi compagni A 17, 18 anni È già tardi E io credo che Con lo sport Con qualsiasi sport Perché io faccio rugby Ma con qualsiasi sport Tu e i ragazzini Tramite lo sport Le insegna i valori Le insegna a rispettare Il suo appresario E soprattutto Quello che Grazie a Bebe Sempre quest'anno Abbiamo fatto Abbiamo fatto Il primo campo inclusivo Dove ci sono i ragazzi Che vengono a giocare In sedia a rotelle A rugby E grazie a Bebe Perché questo È solo grazie a Bebe Ci siamo accorti Che tu Un ragazzino Io posso Posso cercare Di parlarle O spiegarle Con i libri Cos'è la disabilità E posso stare Una settimana Invece Io ti posso assicurare Che tu passi Una settimana Nel quale I ragazzini Di 7, 8, 9, 10 anni Vedono ragazzini Della loro età Con problemi Cominciano piano piano A chiederti Ma cosa Le fa male Ti dice Le vanno a chiedere Al papà Ovviamente No 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 Ma male E si avvicinano Dopo sono loro Che portano il ragazzino Alla fine della settimana Sono stati Non li portavamo più Noi ragazzini Li portavano loro Allora io credo molto Che tramite lo sport Tramite La inclusività Noi possiamo cambiare Io ho sempre detto Io voglio cambiare il mondo Io non lo cambierò Però Posso fare Che questi ragazzini Che si conoscano Un giorno Di questi ragazzini Che vengono al campo Uno può essere un ricercatore E trova la cura Per quei ragazzini Che hanno quella malattia Non lo possiamo sapere Però se noi Non li mettiamo insieme Non li facciamo conoscere Non lo sapremo mai Questo è fighissimo E la Castro Academy Quando è nata? La Castro Academy È nata 7-8 anni fa Mi è nata così Tra Ci abbiamo provato Come tutte le cose Mi hanno chiamato Ho detto Guarda Facciamo un camp di rugby Ah Io se non mi ricordo Perché è nato tutto così Tu metti il nome E noi facciamo il camp Va bene Abbiamo fatto il primo anno Il secondo anno Cominciavano a venire più ragazzini Ci siamo separati E l'abbiamo fatto E l'abbiamo portato avanti Abbiamo trovato un posto Che è incredibile Che si chiama Piancavalo Che sta sopra Udine Che pure adesso mi sa Che viene Viene l'NBA All'ogosto Viene il camp NBA Perché quel posto È veramente È piccolo Non c'è niente I ragazzi non hanno distrazione Tu comunque Passi una macchina Ogni 40 minuti Tu poi Noi avevamo 180-200 bambini Che comunque Quando lo facevamo a IES In un centro Sì è dispersivo Si perdono i ragazzini A 17 anni Cominciano a cercare altre cose E invece lì Non c'è distrazione Sono solo mucche Allora Pensano Crescono E il tempo libero Lo passano tra di loro Che oggi come oggi È difficile trovare quello Quando tu stai una settimana Il bello del campo È che quando tu arrivano Arrivano ragazzini Di tutta l'Italia Ma se ne vanno Che sono tutti amici Sai che questo è uno Dei miei sogni Cioè Anzi lo dico Se c'è qualcosa Perché io vorrei troppo Un domani Fare il mio camp Legato al basket Anche se non sono un atlet Cioè non ho giocato Ai livelli Facciamolo su Però è solo Per tramandare Cioè Per far cercare Di vivere un'esperienza Incredibile Che io purtroppo Non l'ho mai vissuto Perché io sempre Volevo andare al camp E per mille motivi Con la famiglia Con le cose Non si riusciva Ad andare a fare questi camp Però mi piace Quella idea di stare insieme Per una settimana Cioè cambi realmente La vita di alcuni ragazzi E come nel tuo caso Io volevo fare una cosa Che con il basket Avesse Cioè non è che vai lì E giochi e basta La sera ci guardiamo un film Il giorno dopo Viene un ospite Che racconta una cosa Cioè una contaminazione generale Che io voglio Che tu per un anno intero Ripensi a quella settimana Perché No ma i ragazzi Tornano per quello Perché tu Veramente Vivi una settimana Che non sei abituato a vivere Nel senso che tu È ovvio che Fai il rugby Perché fai il rugby Fai due volte al giorno E noi quello che vogliamo Perché i ragazzini Cerchino di capire O di vedere Cosa vuol dire Essere un professionista Però Che allo stesso momento Sono sempre ragazzini Perché io Io penso che i ragazzini Devono fare i ragazzini Devono fare Ronaldo Quando sono Ronaldo E quando stanno lì Noi alla sera Che ne so Una sera guardiamo un film C'è la serata Tu si che vale Dove tutti i ragazzini Presentano un qualcosa Capito Che bello I ragazzi Li fai stare assieme Credono Come si fa Magari qualcuno Adesso voglia iscriversi Come si fa iscriversi Andate su www.castracademy.com Adesso non se ho fatto la cagata Vabbè comunque Se scrivete Castracademy su Google Vi esce tutto Però Questa cosa qua La mia idea E questo Io vorrei che un giorno Piancavalo Diventasse Se tu parli con Bebe O con qualsiasi atleta Che vada Alle olimpiade Ti dice che la figata Più grande Cosa è? Quello stare lì Nel villaggio Allora se noi riuscissimo A avere basket Rugby Calcio E mangiassimo tutti assieme La mia idea è quella Perché ognuno Dopo fa il suo sport Certo Sono 500 bambini Tutti assieme Che mangiano E vivono per lo sport Ognuno ha il suo sport Però dopo li fai tenere Tutti assieme Dopo vanno a vedere Tutti i film E si contagiano Perché poi alla fine Tutti ci possiamo contagiare Dallo sport Stando assieme Gli allenamenti Assolutamente Della preparazione atletica E l'unico modo È che stiamo tutti assieme Facciamolo Ma è una bomba Ma sarebbe veramente figo Ci sono 4 campi da basket Ma poi andata Andata Poi guarda C'è Ricchi Pedi Che è un grande sostenitore Del Friuli E di conseguenza Caccavallo C'ho fatto l'infano Vado sempre Caccavallo Bellissimo Io sono stato testato L'inverno devo andarsi Non sono un grande esciatore Caccavallo bellissimo No poi sono quelle cose lì Davvero Che ti cambiano Cioè Ti cambiano l'infanzia L'adolescenza E poi te le porti dietro Per tanto tempo Sembra una figata Incredibile Chi arriva all'academy O chi si avvicina È gente Che sono ragazzi Che già giocano O anche per curiosità Vogliono provare No 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 Perché poi tu senza volere Al ragazzino Lo stai aiutando Perché oggi In senso La mia idea adesso È cercare di togliere il telefono Ma sarà molto difficile Però limitarlo Ci stanno provando anche a scuola Visto che è complicato Però la scuola è una cosa E lo sport è diverso In senso Ci abbiamo più potere Di Certo È vero Di convinzione Alla scuola Le odiano Non so se sono Nessuno Sì sì Hai ragione È vero Forse abbiamo Abbiamo questo potere E possiamo utilizzarlo Però Tu vedi i bambini Che alcuni Giustamente No Tutti lo siamo stati Un po' mammoni A una certa età I primi due giorni piangono Al terzo giorno Non se ne vogliono più andare Chiaro Capito Tu li stai aiutando pure A superare A crescere Sì Che tutti C'è A crescere Com'è il mondo dei genitori Dei giocatori di Rai Perché ad esempio Nel calcio spesso si parla Adesso faccio l'esempio Col calcio Ma succede anche nel basket Ovviamente C'è del genitore Che o quello che la prende Troppo sul serio E pensa che suo figlio Sia Messi o Ronaldo O quello che litiga Con gli altri genitori Perché eccetera Lì Come si vive Questa cosa Beh L'accademia C'è poco Non è come un club Io non so cosa succederà Nei club italiani Un po' penso che questo C'è da per tutto Perché poi L'essere umano Quello che non è che Perché gioca a basket O gioca a rugby Cambia Però Però bene o male Il nostro sport Insegna che Non ti devi mettere in mezzo E se c'è un allenatore Che è bravo Te lo farà capire Poi siamo tutti grossi Ci diciamo le cose in faccia Nel senso Non è che Però sì È un po' difficile Per esempio Io noi avevamo una Che facevano fare a me Quando ero giovane Che non la possiamo più fare Quando uno arrivava in ritardo Mettevano tutta la squadra Aprivano tutte le gambe E tu passavi In ginocchiato A quattro zampe E ogni volta che passavi Ognuno della squadra Ti tirava una bella Palmata sul culo Tu arrivavi Che ci avevi Il ginocchio un po' tagliato Il culo in fiamme Non arrivavi più in ritardo Non lo puoi più fare Anche io ho questa situazione Anche io ho questa situazione Che forse oggi Credo che non te lo facciano più fare Non lo facciamo più fare Però non arrivavi più in ritardo Però sì Un po' Ci dobbiamo sapere adattare A tutte le cose Però io Io penso che Stare in gruppo Convivere una settimana così È fondamentale Per tutti i ragazzini Perché ti aiuta A crescere Come hai il proteggio Hai voglia Adesso per spiegare brevemente Il rugby Per chi magari è appassionato Ma lo guardo ogni età Perché poi come succede Tutte le cose in Italia E degli altri sport Che non siano il calcio E lo dico Da appassionato di sport in generale Lo vedo poi sul basket Tante cose Si inizia a parlare Quando si vince qualcosa Purtroppo con la nazionale italiana Per quanto riguarda il rugby Non si sta vincendo tantissimo Tranne recentemente Hai citato tu un caso C'è stata questa vittoria storica Poco tempo fa Contro l'Australia Mai successo credo Mai vinto contro l'Australia Mai vinto contro l'Australia Esatto Perché l'Australia è il post Qual è il post Cioè Come dire Qual è l'NBA Nel mondo del rugby Beh sicuramente L'NBA E l'emisferio sud Quello che sia Australia Però la Nova Zelanda In questo momento Penso che sia E l'ho sempre stata Un gradino più alto di tutti Però Quest'anno c'è l'Inghilterra C'è la Francia Che è molto forte purtroppo E rischia pure di vincere Però Sai I mondiali Come l'hai visto I mondiali Sono i mondiali E li devi giocare Però l'Italia Noi siamo Uno sport Molto giovane A confronto di tutti gli altri Professionista Siamo diventati Da poco E questo comunque Porta del tempo Io credo che i ragazzi Quelli che stanno rappresentando Adesso l'Italia Sono dieci volte più forti di noi Come ti dicevo Io penso che Tecnicamente Fisicamente Sono dieci volte di più Ma pure gli altri però Però penso che Che i ragazzi Sono tutti giovani Nessuno Tutta la gente si dimentica Quando noi abbiamo iniziato Come ti dicevo io Nel 2001 2002 Non mi ricordo Noi non vincevamo una partita Però la gente si dimentica E ricorda Forse gli ultimi anni Nostri Ma pure noi Abbiamo passato due o tre anni Senza vincere Io mi ricordo Sai cosa ogni lunedì Andare all'allenamento Quando tutti ti guardano Ti guardano male Ti puntano il dito Ti fanno le scherzi Non è facile Per noi Il nostro sport Non è mai facile Però io credo che I ragazzi Stavano facendo un buon lavoro La federazione Comunque Abbiamo trovato un allenatore Che comunque Sta cercando di cambiare le cose E speriamo Io penso Io credo molto Non deve essere questo mondiale L'Italia non deve puntare A questo mondiale L'Italia deve puntare Non tra due mondiali Perché qua c'è i ragazzi Di 20-21 anni A questo primo mondiale Arriveranno comunque Con poca esperienza E la faranno Io punterei Io penso Che noi non abbiamo mai Fatto un progetto così in Italia Fracchibisticamente parlando Pensiamo sempre A vincere domani Io penso Che noi oggi Dovremmo concentrarci A prendere un allenatore E farlo lavorare Per otto anni Perché è l'unico modo Per poter vedere Cosa fanno questi ragazzi Tra otto anni Se tu cambi allenatore Perché noi facciamo quello Se tu mi cambi allenatore Mi metti un francese Dopo mi metti un suafricano Dopo mi metti un neoselandese Tutti hanno idee diverse Noi per una volta nella vita Penso che dobbiamo Scegliere qualcuno E rimanere per otto anni Perché se no Non cambieremo le cose Questo credo che valga Anche per altri sport Perché poi succede questa cosa Sempre subito Non hai tempo di vedere Neanche i progetti La cosa bella del rugby È che Io vedo diversi amici Che giocano Che hanno realtà Anche presidenti O altro Quando vedo Quando comunico Adesso anche il rugby È decisamente sul pezzo Anche nel mondo Della comunicazione Mi fa venire voglia Di far parte Di quella cosa Cioè che non tutti gli sport Riescono Proprio credo Per tutto quello Che tu dicevi Poco fa Chiaramente L'esempio forse più famoso Nel mondo Li hai citati Gli All Blacks Eccetera Cosa hanno loro Di speciale Beh Di sicuro Io credo Che gli All Blacks Hanno fatto Hanno creato Non mi piace Chiamarlo un marchio Perché non è marchio Hanno creato Una leggenda Hanno creato Uno scopo Che è più grande Di loro Gli All Blacks Hanno un detto Che dice Che Tu devi lasciare La maglia In un posto migliore Dove l'hai trovata Non un posto fisico Nel senso Tu devi Lavorare Tu sei un numero E questo è fondamentale Se tu vedi Nel nostro sport Non c'è il nome Purtroppo adesso Lo stanno facendo È una cagata Secondo me Stanno cominciando A mettere il nome dietro Però a livello internazionale Il nome non c'è mai È stato Tu sei un numero Tu quando tu Cominci a giocare a rugby Ti danno un cappellino Che si chiama Caps Con un numero E quello sei tu Gli All Blacks Questo l'hanno capito Molto bene Tu sei un numero Tu sei lì Non sarai mai grande Tu sei al servizio Della squadra Tu non sarai mai Grande una squadra E quello che sbagliamo Tutti gli sport È questo Che fanno diventare I giocatori più grandi Della maglia E non è così Perché i giocatori Passano La maglia rimane E questo secondo me Quello che tutti gli sportivi Dovrebbero capire Tu sei lì Per onorare quella maglia E lasciarla in un posto migliore Punto Non sarai mai grande Di questa cosa qua Tu devi essere al servizio Della tua squadra Al servizio del tuo paese Al servizio della tua maglia Ma non devi essere mai Grande della tua maglia E purtroppo Questo sta succedendo Il nostro sport Ancora ce l'ha Al non avere il nome dietro Quello già per me È fondamentale Cominci a pensare Se tu sei un numero E il tuo nome sta piccolino Qua sotto Quella è la chiave Secondo me Vedi un punto di vista A cui non avevo mai pensato Però è effettivamente Molto interessante L'H fa paura davvero Quando ti trovi davanti Sì Allora Parliamo O è diventata scenografia Le prime volte Cazzo ti passa la vita davanti Tu pensa che io Avevo visto il mondiale E mi sono trovato A vedere l'H Con l'OMU Quando c'era ancora l'OMU Io sono entrato in campo E l'OMU Stava entrando con me Nel senso Quella volta Mi sono cagato Ad ossa Sì Dopo un po' Io la vedo un po' Sai Credo che Loro approfittano di questo È un È un vantaggio Psicologico Molto grande che ci hanno Che non è giusto Secondo me Perché tu stai Già Se il nostro sport Deve essere giusto Quello non è giusto Perché se no Mi fai ballare la tarantella A me prima Che italiana Anche perché costringe L'avversario A stare lì A guardarti Poi c'è un'altra cosa Che io non sapevo Ma se io fosse stato capitano Il cazzo che mi sposto C'è Quando loro fanno la formazione Come è una cosa di guerra Aspettano che tu rompa le righe Prima di te C'è stata una volta Che il Galese Avevano capito questo qua E c'era l'arbitro Che diceva Per favore Doveva cominciare la partita No Io non mi muovo Non mi muovo Che si muovano loro E loro non rompevano le righe E anche lì Psicologicamente Hanno fatto rompere Prima loro E dopo loro Secondo me È un vantaggio Che loro hanno Questo oggi Che si vede Psicologicamente È tanto più forte Degli altri E se il nostro sport Dice che siamo Tutti uguali Tutti uguali Così non è Beh Così non è Falle nell'espogliatoio Certo Non lo so Io so che adesso Verrà fuori un casino Desta una forza è stata Però Io credo molto che Hai un vantaggio Troppo grande Troppo troppo grande Però ultimamente Vedo che se ne è parlato Cioè Mi ricordo Non mi ricordo Durante che partita Però era successa Forse non so Se era proprio Quella che citavi tu Comunque è diventato Dibattito Diciamo Tra sportivi Tra gli appassionati Proprio questo Questo concetto qui Beh È giusto che se ne parli Penso Perché non Noi Nel senso Diciamo che siamo Uno sport giusto Forse dovremmo Cominciare a pensarci Perché poi Sai È molto In senso Se tu hai giocato A rugby E aspetti Quel momento lì E come dire Cazzo Sono portiere Mi sta per calciare Il rigore Maradona O Messi O quello che sia Non lo so Io lo trovo Un po' Un vantaggio Psicologico Molto grande Chiaro Ma Soprattutto che poi Devo rompere Io Devo stare Le tue regole Questo Sì Ti stai sottomettendo Prima ancora Di iniziare Quindi sei Dai Mi sottomettevo Manco morto Però L'ho saputo Troppo tardi Quali Quali sono le cose Più Assurde Secondo te Che hai fatto Nel tuo Nel tuo Percorso Per cui Beh Io Mi sto Adesso Questa la racconto Allora Io non c'è Ho avuto Sempre un grande Rapporto Con gli arbitri Ero uno Che comunque Si faceva odiare Nel senso Che Ero così Però era il bello Mio pure Quando sono andato A giocare Una partita Dove era Il Maldino Era un torneo Che si fa Le Bahamas Degli ex giocatori C'erano Il Yolo C'era Monó C'era Il Can C'erano Tutti E c'era un arbitro Che io Non l'ho mai amato E lui Non l'ho mai amato Allora Come era una partita Amichevole No Amichevole Non si giocava Per niente Quando lui Fischiava Io me lo avvicinavo E gli dicevo Stai bene Ah Apposta E lui mi guardava E continuava Tutto il primo tempo Così l'ho fatto Quando lui Mi ha detto Al secondo tempo Mi ha detto Castro ma perché Mi chiedi Stai bene Perché stai Arbitrando De merda E non so perché Mi ha dato il giallo Mi ha cacciato Perché era un torneo Così Però mi sono tolto Una soddisfazione Che avevo voluto Per tutta la carriera E te l'hai portata Dietro Non lo potevo fare Perché se no Lasciavo la squadra Da soli Però ti giuro Mi sono tolto Un sassolino Bellissimo Perché poi c'è cascato Ma perché Mi dice così Perché stai Arbitrando De merda Blum Missione Compiuta Bellissima Bellissima Mi sono tolto Un sassolino Bellissimo Ci credo Comunque Quali sono le caratteristiche Che deve avere Un ragazzo Secondo te Qualcuno Che vuole giocare A rugby Per cui magari È più portato O c'è qualcosa Che proprio Non puoi Tipo sul basket Oh se sei alto Vai a giocare a basket A palla a volo Vai Ma il rugby È per tutti Sai Sì Anche se non Sai Se sei grosso Io ricordo Che da ragazzino Era un po' grosso Oltre a basket Mi volevano Cioè Sono andato anche A provare rugby Perché mi dice Se sei Piccolino Ci vai lo stesso Sì Ma guarda Se tu vedi Allora Lascia stare a livello internazionale Ma veramente Il nostro sport È accessibile a tutti Perché tu hai bisogno Di quello con la panza Che sono io Per spingere C'è bisogno Di quello alto C'è bisogno Di quello basso Perché è quello Che gestisce la pala C'è bisogno Di quello Che sa calciare Il raggio Il raggio è veramente Uno sport Fatto di ruoli Nel senso Che tu Ogni numero Ha un ruolo diverso Quanti sono i ruoli Bene o male Sono 15 Giocatori Ma bene o male A parte i numeri 4 e 5 Il 3 e 4 Che comunque Sono ruoli uguali C'hanno più o meno Lo stesso lavoro Ma Ognuno Tipo Il pilone destro Fa completamente Un lavoro diverso In mischia chiusa Al pilone sinistro Allora tu c'hai Uno sport Che è veramente Pieno di Dei giocatori Con caratteristiche Fisiche Ma soprattutto Mentali diverse E tutti hanno Un ruolo diverso Il rugby È veramente Per tutti Qual è la città In Italia Secondo è più calda Nei confronti Del rugby Beh ce ne sono tante Adesso si dico Dopo non mi faranno Più entrare Ma io penso Che comunque Treviso Padova Rovigo Sono state Sono state le squadre Che comunque Quando c'è stato il Milan Quando hanno giocato Molto bene Però Le vere squadre Che tu dici Sono Treviso Padova Rovigo Sono le squadre Veramente che hanno fatto La storia Quindi c'è anche Un tifo Guarda io Ho giocato Calvisano Il senso Calvisano Sempre stata Però penso che Treviso Su questo Io c'ho un rito Da quando vado Alle superiori Dove Dove vivo io C'è Qui Appena fuori Milano Diciamo C'è la festa Del rugby Da quando vado Alle superiori A giugno Per me L'estate E quando c'è Questa festa Del rugby Dove arrivano I rugby Da tutta L'Europa A bere Allora È una Io la ricordo Cioè per me È la festa Più bella Dell'estate E ripeto Ci vado Tutti gli anni Da quando Ho 15 anni Praticamente Perché Arrivano Tutti i rugby E si divertono Davvero Ci sono mille riti Mille cose La serata Del sabato Tutti fuori Di testa Completamente Succedono Le cose Che in altri sport Io non ho mai visto Fare da altri sportivi Arrivano un sacco Di ragazze Cioè succede Di tutto E di più Sono tutti professionisti Perché poi è proprio Una roba Bella Per questo Sta crescendo Tra l'altro Ogni anno Di più Cioè c'è un rusco Sul naviglio Lo dico Perché è molto bella E Sono sempre così Le feste Tra voi Rugbisti C'è gente Che si lancia Sui tavoli Tutti travestiti Una roba incredibile Sì Su questo Diciamo che Sul divertirci Non siamo bravi Per esempio Noi facciamo Il terzo tempo Al camp Il venerdì Dove I genitori Vengono a prendere I bambini E noi facciamo Un terzo tempo Tutti assieme Qualche volta C'è il genitore Che non arriva L'albergo Siamo tutti Puri genitori Però sì Noi abbiamo Questo modo Sai Di stare assieme Di celebrare Penso che oggi Non celebriamo più Oggi Neanche le piccole Grandi cose Sai Anche Arriva un obiettivo E ci stai pensando A quello che Il campionato Vincerai dopo Noi su questo Penso che Siamo bravi A saperci soffermare E festeggiare le cose E stare uniti Penso che quello Fa molto E crea molto Questo gruppo Ovviamente Nei limiti Chiaramente Sempre Sempre nei limiti Ti chiedo un'ultima cosa In realtà Che mi ha Che con te so Di poter affrontare Nel senso che Con altri sportivi Ancora non mi era capitato Però D'altra parte Il rugby Forse per eccellenza È quello sport Maschio Ok Per dire No È un grande tema Dibattuto Quello dell'omosessualità Negli sport Nel mondo del rugby Come viene vissuta Questa cosa Beh Come tutte le cose Purtroppo Non è che Sai Chi gioca al rugby E de gay Forse lo soffre molto No Però Io non ho mai Non ho mai avuto problemi C'è stato un arbitro Che aveva fatto outing Ed era tremendo Perché Era tremendissimo Poi l'arbitro Poi la figura Che già di per sé È massacrata Era cattivissimo Dopo c'è stato un giocatore Che è Gareth Thomas Che ha fatto outing Mi ricordo che era galese Però Lo sapevamo già tutti Si sapeva già questo Hai capito Era più una cosa nascosta sua Perché Sai Come sono le cose Le cose si parlano Le si sapevano Però no Non penso che ci sia Secondo me È difficile per le persone Dirlo Perché All'essere Uno sport Come dici tu Non rude Gente dura Però Al contrario Penso che noi Su questo Ci abbiamo valori Sai A me mi è successo Ultimamente Che un mio amico Con il quale Ho vissuto molto tempo Me l'ha detto Io Mi sono sentito Pure uno stronzo Perché non sono mai Stato capace Di cercarle Di aiutare Però lui ovviamente Vivendo in quel contesto Faceva fatica Perché non sapeva mai Come si aveva reagito Io È un mio amico E gli ha detto Che cazzo Me ne frega me Io sono il tuo amico Fai quello che vuoi Però Forse Secondo me Non è che il problema A noi È più La mentalità Che c'è Dentro Che fa sì Che le persone Aviano paura A parlare Però Non penso Che siamo persone Stupide No infatti Eppure allo stesso tempo Ovviamente Si fanno tutti questi problemi Penso che sia normale Purtroppo Però piano piano Stiamo uscendo tutti Di questa cosa qua Penso che È una questione di mentalità Perché alla fine Non cambia niente Assolutamente d'accordo Tra l'altro A breve ci sarà Il 6 Nazioni Che cos'è Come lo spieghi Che cos'è il 6 Nazioni Per il rugby Il 6 Nazioni Dopo Dopo la colpa del mondo Il torneo più importante Del mondo Nel senso È nato Con 5 Nazioni Ci siamo Si siamo Intravolati noi È diventato 6 Nazioni Però Dopo è nato L'emisferio sud Nel senso È nato Prima Tra Gales Inghilterra Inventato loro Cioè Il 6 Nazioni È l'europeo Del mondo del rugby Però Dopo il mondiale Comunque si gioca Tutti gli anni C'è pure L'emisferio sud Che si chiama 4 Nation Però È molto più vecchio Il 6 Nation Nel senso È il torneo per eccellenza Che sarebbe molto bello Vincere un giorno Esatto Beh lì Come pensi Che siamo messi Quest'anno Beh io Ti ripeto Quello che La squadra Ha avuto Un bellissimo Autunno Ha vinto Due partite De tre Che era l'obiettivo Che si erano fissati Penso che Il 6 Nazioni Non devono puntare A fare Grande cose Penso che devono puntare A portare a casa Le partite che loro dicono Che possono essere due E già Secondo me Sarebbe un grande inizio Di cose Non Basta puntare A dire che vinceranno 6 Nazioni Perché oggi Non lo possono vincere Però Secondo me Tra Se fanno le cose Come ti dicevo io Puntano su un allenatore Tra 8 anni Non ti dico che vincerla Però Che stai lì Che si cagano addosso Di venire qua Sì Dai questo Questo è l'importante Questo è l'importante Questo è l'importante Questo lo vogliamo Ti vede Grosso Forte E tante altre cose Qual è la cosa Che più le persone Non si aspettano da te Ma tu fai Per dire O qualcosa Che non si aspettano da te Perché dicono Cacchio ma come Ma tu Una cosa che ti piace Una cosa che Che vedi Che fai No Forse la gente Si aspetta Che io Mi vede così E dopo Capisce che sono buono Forse questo Non si aspettano Che sia un grande buono Forse pensano Che tutti Tutti quelli grossi Devono avere faccia da cattivo E essere cattivo Ma non è così Io forse questo Si Penso molto Che le persone Vedano in me Qualcosa Che dopo Quando mi conoscono Vedono che sorrisi Ma tu sei Il gigante Perché vedono Che le dai Quindi di conseguenza Si È ovvio Che sai Non puoi mai comparare Un giocatore Per quello che è in campo Perché poi in campo Non sei Sempre dentro Un altro discorso A me per esempio I giocatori Che giocavano Contra di me Mi hanno voluto bene Con il tempo Perché durante la partita Era uno stronzo Io mi ricordo Una parte Adesso Questa te la racconto Abbiamo giocato Il primo mondiale E c'era Charvis Che era un numero 8 Che aveva le trecine Sai quelle che si fanno così Si In una racchia Le ho preso La trecina qua Le l'ha staccata Fino qua su Il sei nazioni dopo Però Lui se l'ha legata qua Io avevo il rasta Lui aveva dato 500 euro A chi mi toglieva un rasta Io ho passato Tutta la partita A prenderle Ma ti giuro Tutta Non me l'hanno tolta Però le ho prese Tante Tantissime Però non mi hanno tolto Il rasta Bellissimo Quelle sono le cose belle Nel senso che io oggi Te la racconto Non è che lo odio lui No 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 Io te la dà Tante dopo Sono casi miei Di conseguenza C'è il trash talking Anche nel rango Tantissimo 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 Poi è quello Tu devi mettere Sai la partita Se vince in testa Non c'è niente da fare Dopo ci prepariamo Corriamo tutto Ma io la vinco in testa Prima E per quello che ti dicevo Che gli all-back Hanno quel vantaggio Molto grande Secondo me Perché la partita Se vince lì Se vince guardandoti in faccia È ovvio che dopo devi giocare Per il trash talking Non è esagerato Come fanno tanti Però in partita Deve essere contestualizzato Però lì vince Chi non la subisce Esatto C'è un detto in Argentina Che dice Che se noja perde Chi si incazza perde Ed è giustissimo Se tu incazzi Perdi la testa Hai perso E invece di tutto Il tuo nuovo mondo Diciamo Di tutte le cose Che fai Ad esempio Nello spettacolo C'è qualcosa Che ti piacerebbe fare In futuro Che ancora non hai Di sicuro Io vorrei tanto Avere un mio programma Mi piacerebbe un sacco Non è il momento adesso Come tutte le cose Penso che Bisogna fare esperienza Però sì Mi piacerebbe fare Un pochettino di più Sicuramente Su questo sì Mi piacerebbe Che il camp cresca Questo sì Come ti ho detto Io voglio che un giorno Il camp diventi Non solo del rugby Diventi tanti sport Multisport E stiamo tutti assieme Questo mi piacerebbe Tanto Come ti vedono Secondo te I tuoi colleghi Televisivi Diciamo Adesso con Belen Lavori ancora Adesso non mi ricordo Come Sì sì Belen Come ti dicevo Io non ho mai letto Un uovo E lei comunque Mi ricordo la prima volta Non me lo dimenticherò mai Perché poi alla fine Tutti parlano Sei famoso Parlano senza conoscere Le persone Lei comunque Non lo doveva fare Mi ricordo Il primo anno Mi ha detto Non ti preoccupare Ti aiuto io Mi ha aiutato lei A seguire il copione A seguire tutte le cose Che non è Non è scontato Non è scontato Assolutamente Tutte quelle persone Mi hanno sempre aiutato Tantissimo Hanno sempre dato A parte Ovviamente Teo Perché sempre sta scherzando E rompe le palle Però Però per il resto No Sono trovato delle persone Veramente Che mi hanno sempre aiutato Davvero E questo è bello Non era scontato Come questa chiacchierata Io ti ringrazio tantissimo Io ti ringrazio È stato super 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 Ma non avevo Io ti aspetto per il camp Davvero Oh organizziamolo Camp e Grigliata Questi sono i nostri due obiettivi Per l'anno nuovo Grigliata c'è sempre Grazie davvero Martin Castrogiovanni Ne passate dal basement Grazie 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 Dabraccio